Pretare, una delle frazioni di Arquata del Tronto. Nella tenda mensa il pranzo è finito, è il momento del caffè. Qui sono circa 20 le persone che dormono ancora in tenda, come in altri campi del comune Ascolano. 80 persone in totale, una sessantina nel vicino comune di Montegallo. Tra le case di stoffa azzurre si tossisce l'umidità di notte, si insinua sotto le coperte e appesantisce il respiro. La tendopoli di Borgo sta per essere smantellata. In settimana, fa sapere il comune, dovrebbero essere strette le ultime convenzioni con hotelle e strutture ricettive per affrontare l'inverno in modo adeguato. Anche a Pretare, come a Piedilama, sono rimasti in pochi. Alcuni attendono le verifiche in casa per valutare l'agibilità e dunque un possibile ritorno. Altri si sono sistemati in delle roulotte vicino al campo. C'è chi valuta la soluzione del contributo autonomo di sistemazione, ovvero in abitazioni in affitto, ad Ascoli o nei dintorni. 200 euro a persona, con maggiorazione per diversamente abili e over 65, fino ad un massimo di 600 euro a famiglia. Ma per chi con il terremoto ha perso anche il lavoro, c'è il timore di trovarsi in difficoltà a far quadrare i conti. Che mio marito c'è nel laboratorio qua, fa valename, ce l'abbiamo 30 capre, ce l'abbiamo un cane e bambina va a scuola qua giù a Borgo. Come facciamo a spostarci da qua? Cerchiamo un attimino altra sistemazione per inverno, più di tutto. Dopo devono arrivare cassette di legno a primavera, dopo ci andiamo dentro cassette di legno. Il comune non è offerto, a persona 200 euro e possiamo andarci via, o prenderci una casa in affitto o albergo. Se prendi una casa in affitto da 350-400 euro, dopo devi pagare luce, l'acqua, il gas, mangiare, che non c'è lavoro, come va a vivere? Grazie. 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 Grazie.